Nostra WAC, che è parte della promozione diretta del nostro paese, ha un aumento di 13.8 milioni di florin e di altra banda, un aumento di gasolina di personale con 2.5 milioni di florin, un aumento di 33%. Casualmente, c'è un tema che ci vuole chiaramente di parte del turismo e di altra parte del aumento del turismo e della promozione del nostro paese. C'è sicuramente qualcosa del nostro WAC come positivo, di altra banda è parte del personale, ci vuole chiaramente che ci vuole chiaramente che ci vuole chiaramente di altra parte della promozione del nostro paese. Nostra WAC, che ci vuole chiaramente di altra parte della promozione del nostro paese, che ci vuole chiaramente di altra parte del nostro paese. che ci vuole chiaramente di altra parte del nostro paese, che ci vuole chiaramente di altra parte della promozione del nostro paese. che ci vuole chiaramente di altra parte della promozione del nostro paese. che ci vuole chiaramente di altra parte della promozione del nostro paese. con il nostro paese della promozione della promozione del nostro paese da un'evoluzione del nostro paese Il nostro paese non ha ricevuto l'evoluzione qui ancora, ma ora lo spero di ricevuto per me che la riunione con il nostro paese. Il nostro paese è considerato importante per mantenere la nostra piattaforma in una onda che ha il miglior beneficio per il nostro paese.